e buonasera siamo tornati qua ma abbiamo sbagliato collegamento scusa dove siamo? ma siamo qui? sono Mastro DJ preparo matrimoni, cresimi, comunioni e quant'altro e faccio pure servizio fotografico anche preparo prima notte di matrimonio e se qualcuno ha problemi per la prima notte ci penso io in che senso ci pensa lei? ma che sembra un bulgaria e romania? ma come pare? Mastro DJ? ma mi ha detto a tutti questi bambini che vedo qua che stanno ballando li controlli perché ne sono... attenzione raga scendi scendi ma guarda è salito sul... sul... porca miseria ma smettila ma sentite adesso già mi vanno male scendi dalla battaglia scendi dalla battaglia fermi, fermi, fermi scusi si calma si calma, si calma faccia il suo mestiere, scusi ma che musica sta mettendo? musica pop, 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 musica per bambini musica pop, musica pop, cos'è? è tutta una musica particolare era di essere tornato indietro quando ero piccolo fermo, si 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 piccolo ma niente preoccupazione sono ragazzi non vi preoccupi scusi, scusi dica, dica Mastro DJ dica si Mastro DJ si Mastro DJ a Sevilla ora mi scusi ma lei a quest'età mette sta musica ma non si vergogna un pochino scusi perché? io voglio fare la gara a tutti i bambini guardi qua mi sento il vetto, lo si ammazza, sono un po' di uno ma che babbuzzieri mi stanno facendo babbettare guardi babbuzzieri ma lei scusi cosa vuole? mi dica ma che DJ? che c'è? che c'è? dimmi dimmi che c'è? quando il bimbo ce lo toglie questa minchiata ci mette i bonziovi e rimetta buongiorno tu metti io buongiorno va tenne il gioco, va tenne la bambina prima che ti togno ma maestro DJ ma non ti fa così con i bambini no no questo è niente, va da sedare, va da sedare, fermo, fermo non tirare, sono un ragazzo, sono, dovete avere pazienza scusate, prima che lo abbandoniamo del tutto, scusi Tati mi lasci parlare dica, dica, ma scusa, ma che sta venendo ma con? ma questo è un folle ma forse, zucchi, 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 zucchi ferma, ferma, ma se deve, sono ragazzo, scusa, sono ragazzi avete un po' di prozac? avete un po' di prozac? che è una medicina? facci pure! dica, dica posso chiedermi una cosa? anche due allora, lei è così adulto e fa queste cose? è adulto? no, ma scusa, perché ha bisogno di lavorare? mi faccio vedere? perché, purtroppo, io ho semplicemente 12 figli e mi ho buscato la pagnotta, 4 mogliere e 2 concubini si, si, si ma tu diciai me la metti la canzone di Candy Candy quella dei mixi guardate i mixi, i mixi, i mixi, i patina da panna ah, ma io mangia di 2 patatine e 2 pop con anzi, mangia di i pop con ma mangia di lui i pop con, chiedino, ciao! fermo, faccio dica a tua mamma, fermo, fermo a tua mamma, sai, ma state facendo un cazzare ma finite oh, oh, oh i che tu di, i che tu di chi vuoi, tu, tu, da mamma, che c'è? me non è che panchina che ci parla l'amore con la panchina, eh? ma che mazzinca è mazzinca, io ti sogno una mazzinca tanta testa ma vedete, dopo che sospendiamo, sospendiamo che felicità che felicità